ciao a tutti e ben ritrovati oggi parleremo un po di come mantenere in modo casalingo in modo semplice e senza farci del male la postura corretta allora io qui questo fular voi potete prendere un fular anche voi una felpa una maglia un asciugamano mi metto di lato così mi potete vedere bene allora sempre bene i piedi sotto il bacino quindi larghezza del nostro bacino bene sulle piante dei piedi braccia in avanti un po più larghe del nostro bacino e sempre usando il respiro portiamo sulle braccia facendo scendere le spalle le scapole e poi andiamo indietro ritorniamo su portiamo le braccia indietro e a questo punto andiamo in avanti portando il più possibile le braccia verso l'esterno ritorniamo giù con le braccia e snoccioliamo la colonna lentamente piccolo movimento semplice ma funzionale ciao a tutti alla prossima pillola